Io naturalmente ringrazio il professor Pontalti per lo stimolo e naturalmente ringrazio il dottor Mariani e il dottor Valchera per avermi invitato per la prima volta a parlare in questo evento del quale sono contento di partecipare anche perché è ricominciato, sono sempre venuto alle giornate psichiatiche scolari e per me il fatto che non si siano tenute l'anno scorso è stata una mancanza, quindi adesso sono felicissimo di esserci a questa ripresa che auguro lunga e duratura. Io farò una presentazione un pochino rapida, cercherò di non annoiarvi più di tanto, questa è la mia outline che poi vedremo un pochino durante la mia presentazione stessa, cercando di non annoiarvi tanto e di darvi una piccola overview di quelle che sono le prospettive terapeutiche nuove, domanda e alcune nuove magari realmente, che esistono per il trattamento del disturbo bipolare e delle forme comunque similari ad esso. Il disturbo bipolare oggi, lo dicevo io un pochino prima, io non lo riconosco tanto più il disturbo bipolare oggi perché abbiamo un'attenzione notevole adesso dei media su questo problema, per fortuna, rispetto a tanto tempo fa quando bene o male era abbastanza negletto, il disturbo psichiatrico in generale negletto, ma il disturbo bipolare in particolare, con tutta una serie di articoli anche su riviste importanti come il New York Times, di cui vi segnalo questo articolo, io le diapositive le lascio quindi poi il link lo potete tranquillamente copiare, in cui in dieci righe vengono raccontate sette storie di pazienti con disturbo bipolare, di cui segnalo la ragazza che vedete in mezzo che è un'attrice teatrale, affetta di disturbo bipolare, che per aiutare le persone a comprendere che cos'è la patologia ha portato in scena, ha creato una pièce teatrale, ha portato in scena una pièce teatrale su una donna affetta di disturbo bipolare. È particolarmente toccante invece il racconto del figlio della donna che vedete alla vostra destra, che era la madre affetta di disturbo bipolare, che ha commesso suicidio perché alla fine si riteneva di essere un peso per i figli e quindi ha preferito la via estrema per non essere più di peso ai figli stessi. E di seguito sono sette storie estremamente toccanti che vi consiglio di leggere. L'endorsement al disturbo bipolare è venuto poi dalle star. Per fortuna, nella lotta allo stigma, alla mattia mentale, specialmente anche al disturbo dell'umore, sono venuti in un soccorso delle star. La più famosa possiamo dire che è Catherine Zeta-Jones che ha fatto una pubblica dichiarazione. Prima ha detto veramente che è affetta di suo bipolare, poi ha detto no ma non è proprio così, cioè io ho una forma di suo bipolare, poi anche perché si è attirata un sacco di attenzioni. Mel Gibson ha affermato di soffrire di suo bipolare, Richard Dreyfus, molte star ce l'hanno fatta e sono diventate testimonial della campagna contro lo stigma, delle associazioni per esempio dei pazienti con di suo bipolare americane e internazionali. Alcune non ce l'hanno fatta, per esempio Carco Bain, John Belushi, Robin Williams, Carrie Fisher, entro certi limiti. Quindi non è detto che la fama poi di una persona automaticamente comporti il fatto che riesca a sconfiggere la malattia. Che cos'è il disturbo bipolare nel nuovo millennio? Ce lo chiede anche Guy Godwin. È un qualcosa su cui bisogna lavorare, cioè la ricerca clinica nel disturbo bipolare è un qualcosa sempre in fieri, però dice Godwin che in realtà alcuni fattori, alcuni punti fermi possono essere trovati. E uno di questi punti fermi è per esempio la terapia farmacologica, su cui per fortuna, a differenza di tanti altri disturbi, ma anche di altre patologie mediche o basti pensare anche quelle oncologiche, abbiamo qualche dato oggettivo. Per esempio abbiamo il dato oggettivo del litio, che è un dato tutto sommato incontrovertibile. Diciamo che in psichiatria abbiamo pochi farmaci che funzionano bene, due di questi sono il litio e la glozapina, e stranamente sono i due che molto spesso spaventano lo psichiatra, sentivo dire stamattina, proprio perché sono due farmaci che costringono lo psichiatra un pochino anche a fare il medico. Il che non guasta, non guasta quasi mai, però diciamo che proprio per questo si tende a sottoprescrivere sia litio che glozapina. E ciò nonostante, saremmo nel nuovo millennio, avremo i progressi della ricerca, gli studi FMRA, gli studi trials clinici randomizzati, controllati, avremo tutti quanti le straordinarie progressi nella ricerca scientifica, ma comunque la diagnosi disturbo bipolare rimane travagliata. Cioè comunque, nonostante ciò, rimane travagliata. Ma perché? Perché secondo me, almeno questa è una mia esperienza personale, io non vedo più i pazienti che vedevo dieci anni fa. Io non vedo più gli esordi MDI oppure DMI, classici, che erano descritti nei libri. Io vedo esordi che possono partire su base temperamentale, che poi però sono modulati dalle influenze esterne, basti pensare agli eventi stressanti che abbiamo vissuto noi nelle nostre zone con il terremoto, e quante slatentizzazioni di temperamenti sono poi evolute in un disturbo vero e proprio. Ma sono disturbi bipolari? Cosa sono? E basti pensare al fatto che, per esempio, l'uso di sostanze ha modificato radicalmente gli esordini delle malattie, perché io non vedo più, per esempio, le manie euforiche. Non le vedo praticamente quasi più. Vedo sempre le manie disforiche, le manie irritabili, oppure le depressioni disforiche. Cioè vedo quelli che sono gli stati misti. E li vedo sempre. E noi sappiamo benissimo che poi è lo stato misto il problema serio della terapia del disturbo bipolare. Perché se abbiamo la certezza che il decorso MDI risponde bene al litio, sappiamo anche bene che, per esempio, nello stato misto qualche difficoltà in più ce l'abbiamo. E per questo che io non potrei concepire, per esempio, una presentazione sul disturbo bipolare senza citare questo articolo del professor Kukopoul e di Nassir Gaemi, che secondo me è un articolo che rappresenta qualcosa che dovrebbe essere letto da tutti gli psichiatri, o tutti gli specializzanti, o tutti coloro che si interessano di subullumore. E cioè il famoso articolo sulla primacy o mania, che è un articolo geniale, breve peraltro, ma geniale, che dice come in effetti il cardine del disturbo bipolare sia la mania o la forma maniacale e la depressione, di fondo, non è che è una conseguenza del processo eccitatorio della mania. Noi abbiamo focalizzato, abbiamo tantissimi trattamenti per la depressione, quanti antidepressivi abbiamo? Una barca serotoninergici, serotoninergici non adrenergici, di vario tipo. Abbiamo quanti trattamenti specifici per la mania acuta, per esempio? Pochissimi rispetto agli antidepressivi. Quindi diciamo che in realtà il focus è un altro. Tant'è che Cucopulos, questa l'ho rubata al dottor Gabriele Sani, quindi mi scuserà se poi la vedrà, Cucopulos diceva che abbiamo delle rivoluzioni in psichiatria e diverse rivoluzioni sul trattamento profilattico, sui cambiamenti dei livelli ematici, sul trattamento della mania, ma queste rivoluzioni saranno sempre, ne aspettiamo altre, conseguenti sempre all'uso del litio. E questo deve rimanere un concetto, secondo me, centrale nel trattamento di suo bipolare. Ma il problema è proprio questo. Il problema è che io adesso non vedo più i quadri classici su bipolare, ma vedo questi. Vedo gli stati misti, che già aveva descritto Kraepelin, che purtroppo però adesso stanno diventando tanto più frequenti, tanto più precoci, proprio perché slatentizzati, forse ci sarà una minore resilienza, forse ci sarà una base della genetica che si sta progressivamente accentuando, forse, anzi, sicuramente l'uso eccessivo di stimolanti, ma a partire dal caffè parlo, non solo di sostanze stupefacenti. Poi ci mettiamo anche le sostanze stupefacenti e succede che noi vediamo dei quadri sporchissimi in cui non sappiamo che diavolo di esordio abbiamo, che possiamo provare a ipotizzare che sia un esordio di tipo bipolare, ma non abbiamo la certezza che non possa evolvere verso un quadro francamente schizofrenico, perché sono completamente sporchi. E questo è il tentativo, è stato quello di cercare di dare una spiegazione con dei criteri diagnostici, questi sono quelli del professor Peruggi, e questi sono quelli alla fine del VSM5, che grazie a Dio ti ha introdotto lo specificatore con caratteristiche miste, perché altrimenti prima non potevamo, potevamo solo inquadrarlo con un di suo piccolo a tipo 1, non potevamo assolutamente dire che però, vabbè, c'è un di suo piccolo a tipo 2, sta un po' irritabile, c'è il depresso, ma sta un po' irritabile, non potevamo dire che aveva uno stato misto, adesso lo possiamo, grazie a Dio, dire, ed è già qualcosa di più che almeno chiarifica le diagnosi. I like it, but I'm not gonna crack, questo è un pezzo della canzone Lithium di Cartcobain, dei Nirvana, direi di Cartcobain, è di Cartcobain, però diciamo dei Nirvana, perché in realtà a noi tutti i psichiatri dovrebbe piacere molto il litio, perché di fondo se noi ci chiediamo qual è il farmaco che ha la migliore prospettiva a lungo termine di riuscita nei trattamenti, ci dovrebbe per forza venire in mente il litio. Certo, è vero che il litio può funzionare meglio in alcune forme, per esempio il chiaro, insomma, il chiaro disturbo bipolare episodico con un recupero, con un intervallo libero ben definito, nell'intervallo MD, nella mania euforica, eccetera. Funziona meno bene magari nei rapid cyclers, cioè nella mania disforica, eccetera, eccetera, ma non è che non funziona. Magari in questi altri casi dobbiamo fare qualcosa di più, aggiungere qualcosa di più, non solo alla terapia farmacologica, per far migliorare il nostro paziente. Ma di fondo, le preparazioni a base di litio sono la pietra fondante di tutti i trattamenti a lungo termine, al breve e lungo termine, quasi sempre a lungo termine, al disturbo bipolare. Perché ci piace il litio? Perché innanzitutto ha un'azione chiara, ha uno dei pochi farmaci in psichiatria, che hanno un'azione chiara antisuicidaria, l'altro è la clozavina, però nella schizofrenia, e ha dimostrato quest'azione antisuicidaria, indipendente dall'azione sul disturbo bipolare, quindi quasi un'azione transnosografica, un'azione dimensionale del litio sul suicidio, sull'ideazione suicidaria, perdonate un provo sul suicidio in genere, in tutti gli studi che hanno valutato questo tipo di manifestazione. Questa è la revisione famosa, la meta-analisi di Cipriani, pubblicata sull'American Journal of Psychiatry nel 2005, tuttora attuale. Il meccanismo è indipendente, probabilmente dalla patologia. Il litio fa un sacco di azioni, sia a livello neurotrasmettitoriale, sia a livello intracellulare, che a livello genico, quindi a livello del DNA. In realtà poi si pensa che l'azione antisuicidaria sia dovuta all'inibizione della glicogeno-asintetasi-chinasi-3, che è la base, molto probabilmente, di tutta una serie di cambiamenti intracellulari che possono rendere ragione di questa azione antisuicidaria. Ma secondo me sarebbe riduttivo anche questo, ovviamente. Questa è l'azione che si pensa più rispondente antisuicidaria del litio. In realtà poi possiamo pensare che il litio possa agire anche in tanti altri modi. Il problema è che l'inibizione della GSK-3b, 3b, scusate, è associata anche, purtroppo, a alcune collateralità del litio, perché, riprendendo quello che diceva il professor Perna, il litio non è uno psicofarmaco, è un farmaco che agisce su tutto il corpo, lo sappiamo benissimo, perché conosciamo benissimo gli effetti che fa sulla tiroide, sul rene, e su tanti altri organi. Se noi però usiamo il litio in pazienti che hanno una forte ideazione suicidaria, gli andiamo poi a vedere un attimino la sostanza grigio cerebrale, noi vediamo che i pazienti drug-naive hanno una ridotta, per esempio, volume della sostanza grigio cerebrale, rispetto ai pazienti che invece fanno il litio. L'inibizione della GSK-3b molto probabilmente favorisce anche il neurotrofismo cerebrale o quantomeno, secondo alcuni, impedisce la degenerazione cerebrale, perché sicuramente voi sapete che la GSK-3b è anche coinvolta, per esempio, nella produzione della proteina tau, e quindi questo renderebbe ragione al cosiddetto effetto antidementigeno del litio, tutto da dimostrare che però apre delle interessanti prospettive. E, d'altra parte, il litio, se facciamo un match contro gli altri stabilizzanti nel disturbo bipolare, è comunque chiaramente superiore per tutta una serie di motivi, ma anche per una questione, secondo me, di tollerabilità. Io non penso che l'acido valproico sia molto, molto più tollerabile del litio. L'acido valproico, il depagin è un farmaco che i pazienti sentono molto pesante. I pazienti con il litio sentono il farmaco, ma lo sentono molto meno del depagin. E questo è, non so se la mia esperienza è un po' rispondente alla vostra, è, secondo me, un fattore che poi ti aumenta l'aderenza e il trattamento a lungo termine, perché sappiamo bene che nel disturbo bipolare il problema dell'aderenza è centrale. Ed è terribile, perché noi sappiamo che quello che succede quando un paziente interrompe il litio e noi non glielo diciamo, ci aspettiamo il peggio quando un paziente interrompe, diciamo qualunque trattamento, ma soprattutto quando interrompe il litio. Ora, il discorso è, se il litio a rilascio immediato, il famoso carbolitio che abbiamo usato e venerato per tanti anni, è stato sicuramente la pietra fondante, una nuova formulazione di litio è utile nella pratica clinica attuale? Perché secondo me è utile. Ce l'avevano tutti prima di noi. Molti dei nostri pazienti andavano a rifornirsi, per esempio, di qui, in un romano di Priadel, o di Litiofor, nelle farmacie vaticana, pagando cifre non male, perché poi ne dovevi ordinare un gran bel po' e ti arrivano questi pacconi di medicina, avere anche noi una formulazione di litio a rilascio prolungato ci aiuta. E sicuramente ci aiuta a ottimizzare la terapia, fondamentalmente agendo sulla maneggevolezza della somministrazione e, diciamo, sulla minore fluttuazione degli ematici del farmaco e naturalmente quindi migliorando l'aderenza a lungo termine. Se io devo dare, per esempio, ai tempi che noi davamo sicuramente due, tre, quattro litio al giorno, carbo litium al giorno, mi rilascio immediato, io dicevo al mio paziente, guarda, io preferisco dartene quattro somministrazioni al giorno più che tre somministrazioni, però ti do 600 mg la notte, la sera, prima di andare a dormire, perché sapevo che era meglio fare così, in quanto se dai 600 mg di carbo litium e rilascio immediato la sera, prima di andare a dormire, affatichi i reni. Il che andrebbe anche bene se tu fai una terapia per un mese o due mesi, ma se prevedi fare una terapia per 10-15 anni, alla fine il rischio di patologie renali con queste somministrazioni molto intense di litio, specialmente notturne, quando tu poi vai a dormire e i reni lavorano, è un problema. La formulazione di rilascio prolungato ci consente, per esempio, di superare questo tipo di problema. Come funziona il litio a rilascio prolungato? L'indicazione terapeutica copre un pochino, l'indicazione terapeutica di litio a rilascio prolungato copre un po' tutti gli episodi di disturbo bipolare, quindi lo possiamo utilizzare anche in combinazione con tanti altri farmaci, che non vi dico niente di strano, è una formulazione che più che in milligrammi si dovrebbe vedere un pochino i millimoli di litio. Una capsula, una compressa, contiene 12 millimoli di litio e questo è molto importante soprattutto per la posologia, perché la posologia dovrebbe essere, almeno in un paziente che non ha mai preso il litio o il litio a rilascio prolungato, esattamente come da scheda tecnica, quindi fare nei giorni 1 e 2 mezza compressa, nei giorni 3 e 4 mezza più mezza, nei giorni 5 e 6 una più mezza e successivamente due compresse, che si possono dare la mattina e la sera oppure si possono dare tutte e due la sera, se uno le dà tutte e due la sera, l'avvertenza, il consiglio che vi darei io, è quello di monitorare più frequentemente la litiemia, perché possiamo avere dei valori di litio un po' più alti rispetto alla somministrazione frazionata. Per il resto, gli effetti collaterali, almeno gli effetti collaterali macroscopi, sono abbastanza simili a quello del rilascio immediato, ma non solo del tutto uguali. È vero che le controindicazioni assolute, io ho notato spessissimo, dico insomma anche colleghi o specializzanti, leggetevi sempre le indicazioni e le controindicazioni, come fanno i buoni medici di base e i buoni colleghi di medicina interna, perché intanto partite da quello e non andate off label in un caso e non fate cavolate nell'altro caso. Per esempio, le controindicazioni del litio, a parte la iversensibilità al principio attivo, sarebbero l'insufficienza renave grave, l'infarto acuto del miocardio, la sindrome di Brugada oppure la liponatremia marcata. Io ho preso un caso, stamattina mi hanno chiamato all'ospedale dicendo che ho azzeccato il mio malgrado, una diagnosi di sindrome di Brugada in un paziente a cui volevamo impostare una terapia con litio, un disturbo bipolare a cui volevamo impostare una terapia con litio a rilascio prolungato sulla base del fatto che parlando con questo paziente lui mi ha riferito che un tre mesi fa aveva avuto un episodio sincopale era stato al pronto soccorso per un episodio sincopale che poi si era risolto senza nessun tipo di problema e ogni tanto aveva qualche sensazione di svenimento non ascrivibile a una patologia psichiatrica. L'abbiamo inviato a consulenza cardiologica, il cardiologo ha ritenuto sulla base di questi segni anamnestici di fargli un test alla flecainide e abbiamo trovato il segno di Nava cioè l'ST il famoso ST come dire attenda per cui questo è un paziente a cui se noi veramente gli davamo il litio rischiamo che gli facevamo noi una ritmia ventricolare e lo uccidevamo con le ovvie conseguenze medico-legali che questo può comportare. quindi diciamo conoscere le controindicazioni è sempre bene. Poi è ovvio che bisogna tenere delle cautele nella somministrazione del litio che non vi devo dire io noi sappiamo benissimo che può bradicardizzare che può causare sicuramente ipotiroidismo l'ipotiroidismo da litio è un ipotiroidismo per cui si deve aggiungere qualcosa per contrastarlo non togliere il litio vediamo che un paziente sviluppa l'ipotiroidismo dopo anni di terapia con litio e sta bene la cosa più sbagliata che può fare un endocrinologo non lo fa quasi nessuno però qualcuno ancora lo fa no sospendiamo immediatamente il litio e mettiamo l'eutirox cioè andiamo a togliere lo stabilizzante e mettiamo una bella benzina sul fuoco e quindi facciamogli fare una bella fase di eccitamento è ovvio che noi lo sappiamo che il litio fa tutta una serie di effetti a livello della tiroide quindi inibisce la captazione dello iodio inibisce per esempio la formazione della tiroxina il rilascio della tiroxina altra la formazione della tiroglobulina impedisce la deiodinazione della T4 in T3 eccetera ma abbiamo la soluzione nel senso che se c'è un ipotiroidismo e questo è un paziente stabile con il litio gli diamo l'eutirox e evitiamo di fare casini sospendendo il litio gli altri aspetti di tollerabilità possono essere degli effetti renali iniziali io per esempio con il litio a rilascio prolungato questi li abbiamo minimizzati però esiste qualche paziente che può avere un aumento della sete può sviluppare gli effetti renali del litio si dividono in breve e lungo termine quelli a lungo termine speriamo di non averli mai tipo la nefropatia interstiziale cronica che credo che spero veramente che poi è il precursore dell'insufficienza renale però gli effetti a breve termine tipo il diabete insipido che deriva da una resistenza all'ormone antiuteroidico c'è nei pazienti non per quello bisogna sospendere il litio si possono mettere in atto delle terapie grazie a Dio efficaci controllare sicuramente l'ipercalcemia abbassare l'iperparatiroidico l'aumento del PTH tramite sicuramente altri mezzi però no la sospensione del litio è sempre un qualcosa che va valutata solo quando c'è bisogno le interazioni del litio con gli altri farmaci le conosciamo bene sappiamo che i diuretici naturalmente possono provocare specialmente quelli dell'ANSA eccetera possono provocare una riduzione del sodio e quindi un aumento di livelli di litio una cosa a cui bisogna stare un po' attenti è se un paziente fa una terapia cronica con farmaci antinfiammatori non steroidei ma anche inibitori della COX2 perché tendono a riassorbire a livello del tubulo prossimale il litio e quindi creare livelli maggiori di litiemia per cui un paziente se prende un moment ogni tanto un sinflex per un mal di testa non succede nulla ma se c'è un paziente che fa questa terapia in cronico bisogna monitorare la litiemia molto frequentemente perché bisogna un po' vedere se per caso i livelli non si alzano fino a livelli tossici e naturalmente esistono tutta un'altra serie di cautele questa è una tabella puramente didattica riassuntiva in cui si fa una equiparazione possiamo dire che bene o male 300 mg di carbolitium equivalgono a una compressa di litio a rilascio prolungato bene o male siamo sui 12 mmol di litio a rilascio prolungato sulle 8 mmol del litio a rilascio immediato il dosaggio più frequente che può essere quello di 900 mg corrisponde bene o male a due compresse di litio a rilascio prolungato e quindi praticamente a 24 mmol è ovvio che i pazienti che già sono trattati con litio non è necessario anzi è assolutamente controindicato fare un washout passano direttamente se uno vuole farlo a litio a rilascio a rilascio prolungato ora gli eventi avversi ne abbiamo parlato io le ho riportate le ho riportate qui però al di là degli eventi avversi molto pericolosi io non ho eventi avversi a meno che non cominciamo ad avere per esempio il paziente non si fa un infarto il paziente non comincia ad avere delle alterazioni gravi della conduzione cardiaca il paziente non comincia a manifestare intolleranza perché non riesce più a sopportare per esempio gli effetti cutanei dermatologici del litio oppure non riesce comincia a avere questa poliuria molto fastidiosa o il tremore io ho visto dei colleghi sospendere il litio per il tremore da litio quando ancora il tremore da litio era iniziale quindi finissimo e ho visto questi pazienti ricadere in modo bestiale prendere poi alla fine dosi di litio che erano il doppio rispetto a quelle prima della sospensione il tremore posturale il tremore da litio che è simile a quello essenziale di fondo beneficia moltissimo di un passaggio una formulazione a rilascio prolungato la stessa cosa gli effetti collaterali gastrointestinali immediati almeno per quanto riguarda la nausea la sensazione di fastidio gastrico sono molto minori con litio a rilascio prolungato rispetto al litio a rilascio immediato all'inizio quello che potete osservare almeno quello che ho osservato io con litio a rilascio prolungato è un aumento un pochino della diarrea un pochino un'alterazione dell'alvo che però è abbastanza transitoria rarissimamente l'ho vista persistere per più di un paio di settimane è sicura tranquillamente con un antidiarroico banalissimo questo è un lavoro sugli effetti collaterali che è sotto revisione in click al neuroscience quindi teniamole incrociate e speriamo bene quindi quali sono i vantaggi i vantaggi a parte la diminuzione della severità degli effetti collaterali come i tremori i crampi calcio intestinali la nausea ha il litio a rilascio prolungato nella mia esperienza da meno sintomi cognitivi rispetto al litio a rilascio immediato questo sarebbe spiegabile dal picco che tu hai con l'altimax che è di un'ora un'ora o due del litio a rilascio immediato e quello invece il litio a rilascio prolungato sta sulle quattro ore però potrebbe essere potrebbe dipendere anche da altre azioni che purtroppo magari non conosciamo aumenta sicuramente l'aderenza della terapia se io propongo a qualunque paziente affetto a qualunque patologia di pigliarsi tre medicine al giorno tre litio al giorno magari gli faccio prendere un antipsicotico dopo pranzo poi gli do la pasticchetta per riposare magari gli do anche un altro stabilizzante perché la sera che non mi risponde benissimo al litio gli faccio una politerapia in cui gli dico che tutte le sue giornate tutte le ore delle sue giornate sono impegnate dall'utilizzo o dall'assunzione di una pasticca è ovvio che purtroppo riduco l'aderenza è anche vero che in alcuni casi bisogna farlo per forza la monosomministrazione sicuramente è molto comoda nei casi in cui noi possiamo usare il litio a rilascio prolungato da solo senza addonne di antipsicotici o di altri stabilizzanti molto probabilmente i danni renali a lungo termine sembrerebbero inferiori non abbiamo molti dati a dire vita su questo sembrerebbero inferiori con il litio a rilascio prolungato rispetto con il litio a rilascio immediato c'è uno studio appena uscito appena pubblicato dal professor Tondo sull'International Journal of Bipolar Disorder se non erro e dovrebbe essere quindi una rivista aperta quindi senza bisogno di pagare in cui il semplice esame della velocità di filtrazione glomerulare è in grado di farci capire se c'è un danno renale oppure se dobbiamo abbassare i livelli di litio perché la VFG che fanno bene o male la GFR e la VFG che fanno bene o male tutti i laboratori deve essere sempre superiore a 60 millilitri per litro per 1,73 metri quadri se è inferiore a 60 bisogna ridurre la dose come succede spessissimo per esempio con persone anziane quindi sì si può iniziare una terapia anche in persone anziane con il litio oppure si può continuare in una persona anche anziana una terapia con litio fatto salvo ovviamente le interazioni con gli altri farmaci monitorando questo semplice palametro che è la velocità di filtrazione glomerulare che tutti i laboratori fanno poi si possono fare le beta 2 microcobuline si possono fare tanti altri markers però tutto sommato basta fare una GFR e ci risolviamo naturalmente c'è una stabilità dei livelli ematici di litio con il litio rilascio prolungato che aiuta l'unica cosa che io ho osservato è che per mantenere un paziente stabile se passa dal litio rilascio immediato al litio rilascio prolungato l'unica cosa che io vi consiglierei è di mantenere i livelli di litiemia nel sangue uno 0,1 0,2 maggiori rispetto a quelli che avevate prima con il litio a rilascio immediato osservazione personale non validata da alcuno studio scientifico però condivisa da alcuni altri colleghi gli svantaggi ci sono perché comunque è sempre il litio quindi sono genericamente comunque connessi all'attività intrinseca del farmaco stesso se vogliamo darci una regolata sui livelli di litio da usare possiamo rifarci a questo litiometer al litiometro pubblicato in un geniale articolo del professor Mali che è un simpatico australiano che pubblica questi straordinari articoli su bipolar disorder in cui esattamente ti dice un pochino con questa specie di termometro con i livelli di litio quello che noi vogliamo ottenere e quindi se vogliamo avere come target la depressione ci manteniamo sui 0,4-0,8 vogliamo avere come target il mantenimento dobbiamo stare sugli 0,6-0,8 se invece dobbiamo attaccare una mania acuta dobbiamo andare almeno fino a 1 o anche qualcosina di più senza superare gli 1 e 2 gli 1 e 1 gli 1 e 2 perché altrimenti rischiamo invece la tossicità notevole del litio semplice semplice simpatico strumento che fra l'altro consente è anche portabile tranquillamente in tasca sono stampato qualche paziente ogni tanto me lo vede serve per misurare la febbre questo invece no serve per misurare il litio si può fare scusate la citazione filmica miei cari drughi ma insomma ormai dopo la serata di ieri ormai sono andato in mania da film gli antipsicotici long acting disturbo bipolare ora io sono un convinto fautore dell'uso degli antipsicotici long acting di seconda generazione sin dall'esordio psicotico che sia esso maniacale, bipolare o schizofrenico per una semplice questione perché tutti gli esordi hanno un'aderenza pari a quasi zero dopo il primo episodio pare che si possa fare abbiamo il primo studio fantastico finalmente uscito in cui ci dicono che l'aripiprazolo long acting 400 mg è una terapia di mantenimento efficace nei pazienti con disturbo bipolare tipo 1 attenzione ce l'abbiamo ancora in scheda tecnica uno studio pubblicato da Joseph Calabrese sul journal clinical psychiatry praticamente recentissimo nel 2017 in cui si vede che in effetti quello che è è che l'aripiprazolo a long acting funziona nel mantenimento cosa che secondo me molti di noi sanno bene perché di fondo forse lo hanno già usato qualche paziente con di suo bipolare però magari prima era un po' schizofrenico naturalmente l'efficacia è su qualunque l'efficacia è rispetto al placebo e vabbè grazie rispetto al placebo è facile però in effetti la pie è molto elevata la forbice è molto elevata l'efficacia è su qualunque episodio quindi è efficace sia nella prevenzione degli episodi maniacali che nella prevenzione degli episodi depressivi e nella mia esperienza è molto efficace anche almeno negli schizofrettivi anche negli episodi quelli misti in cui non sai bene se in effetti si tratta di depressione o manio si tratta di tutte e due ci sono delle evidenze sul paliperidone palmitato però sono limitate a questo case riporto un altro studio sono sempre due pazienti con disturbo bipolare e disturbo borderline questo è quello però più noto è stato fatto dal gruppo del professor Altamura su tre pazienti molto interessanti che dice che in effetti c'è un calo delle IAM Mania Rating Scales se tu usi 150 mg di paliperidone palmitato 150 mg di paliperidone palmitato in un paziente bipolare mi sembrano abbastanza tanti però da 100 a 150 però è già un ulteriore armamentario che noi abbiamo ora sono però in pipeline tutta una serie di nuovi antipsicotici stabilizzanti in antissuo bipolare uno dice ma a che servono tutte queste rabbacce se abbiamo già tanti antipsicotici servono a evitare quello che Bradley Cooper e Jennifer Lawrence il dialogo che hanno in il lato positivo quando si fanno si fanno lo scambio a dire ah tu che farmaco hai preso ah io ho preso chetaiapin litio ma ma quelli mi hanno ucciso e il trazodon ah non ne parlavamo il trazodon quello mi ha reso proprio idiota mi ha steso di fondo lo sviluppo di nuovi farmaci che siano antipsicotici che siano nuovi stabilizzanti serve per migliorare quelli che abbiamo al fine di migliorare la tollerabilità noi abbiamo pubblicato adesso una revisione per esempio della letteratura sull'urasidone che è un nuovo antipsicotico che dovrebbe funzionare molto molto bene per esempio nella depressione bipolare chi vuole mi lascia mi contatta via mail e glielo spedisco tranquillamente e abbiamo anche pubblicato una revisione della letteratura su un altro antipsicotico l'urasidone uscirà a breve con il nome di latuda questo altro antipsicotico è già uscito negli Stati Uniti e si può usare anche in add-on nel trattamento per esempio della mania della schizofrenia e della depressione della depressione bipolare e unipolare resistente ovviamente e sembrerebbe avere anche un ottimo profilo questo è abbastanza simile alla bilify perché è un agonista parziale dei 2 ma soprattutto dei 3 è un antagonista dei 5KT1A quindi ha un buonissimo profilo per esempio minore effetti collaterali e un buon profilo cognitivo sembrerebbe funzionare lo scopriremo quando arriverà ci sono nuove terapie somatiche del disturbo bipolare? certo che ci sono la terapia elettroconvulsivante è una nuova terapia che non la usa quasi più nessuno ed è secondo me una delle cose più a parte la terapia elettroconvulsivante è un vanto italiano quindi dovremmo essere anche fieri che bene o male l'abbiamo inventata noi questa terapia ma al di là di quello la terapia elettroconvulsivante se togliamo tutti quanti i pregiudizi ideologici che a me fanno anche abbastanza arrabbiare quando li sento su questa terapia sappiamo che ha delle indicazioni ben precise e negli stati misti refrattari al trattamento quando non puoi dare il farmaco perché il paziente non lo tolgo gli hai dato l'impossibile persino la clozavina e il paziente continua a stare male può stare meglio con la terapia elettroconvulsivante perché quindi non provare il problema è che sono pochissimi centri che adesso la fanno e quindi con tutta la problematica di trovare i centri oppure nella terapia per esempio le donne in gravidanza in cui non vogliamo dare il debagin per gli ovvi motivi il litio abbiamo un po' paura anche se io ho condotto pazienti a gravidanza con litio senza alcun tipo di problema senza anomalie di Epstein oppure senza sindrome neonatali precise precise però se vogliamo se abbiamo paura oppure se la paziente ha un forte rischio di teratogenicità la terapia elettroconvulsivante negli episodi funziona molto molto bene di fondo le conclusioni e vi lascio se no tra un po' commettete tutti i suicidi come Will Coyote vi lascio una fase però molto provocatoria di Frederick Goodwin che è un professore credo a St. Louis credo che adesso stia se mi ricordo bene che dice chi non può o non vuole usare il litio non deve curare i pazienti bipolari purtroppo sono d'accordo il trattamento del litio dovrebbe essere sempre proposto a tutti i pazienti in cui noi facciamo diagnosi o presumiamo che abbiano una diagnosi di disturbo bipolare perché il litio cambia la vita è un po' come la clozapina nel paziente con disturbo schizofrenico resistente voi iniziate che il paziente è totalmente distrutto gli date la clozapina dopo un anno magari non lo riconoscete neanche più perché magari perché è ben vestito perché colloquia perché è recuperato addirittura il senso dell'ironia ti verrebbe pure l'idea ma era schizofrenico vabbè però il litio è un trattamento che molti miei pazienti che lo fanno da tanti anni dicono dattore guardi mi può togliere anche un rene sì sì vabbè ci avrò pure la nefropatia interstiziale mi tolgo il rene ma il litio non me lo toglierò mai perché il paziente che risponde al litio sa bene che poi sta bene e non ripagate più negli episodi come ce l'aveva prima naturalmente la formazione al litio rilascio prolungato è utilissima per migliorare la compliance e la tolerabilità sia breve ma purtroppo le deravie con il litio sono quasi sempre a lungo termine anche qui l'utilizzo degli antipsicotici di long acting ha comunque stiamo avendo delle iniziali prove di efficacia ma lo sappiamo benissimo che nella pratica clinica poi noi lo vediamo che gli episodi timici anche in un paziente con disturbo schizofrenico sono ben controllati dai nuovi long acting seconda generazione però ancora non c'è alcuna indicazione in scheda tecnica consideriamola la terapia elettroconvulsivante cerchiamo di io mi sono fatto una lista dei centri che la fanno e ci sono dei pazienti che in effetti ne beneficiano perché l'hanno fatta in passato e naturalmente aspettiamo anche l'uscita di questi nuovi antipsicotici tipo l'urasidone e la cariprazina e speriamo insomma di aumentare ulteriormente il nostro armamentario se poi in qualche modo qualcuno vorrà approfondire delle relazioni e un po' questi nuovi trattamenti di colurisidone e la cariprazina ci saranno i futuri appuntamenti di Poliedra a San Benetto del Tronto il 24 giugno e le giornate della follia a Teramo io sono Teramano quindi vi invito a partecipare grazie a tutti grazie a tutti